L'incidente nella serata di mercoledì 4 dicembre, poco dopo le 18.30, sullo svincolo di uscita a Zegna Castellamonte della statale 565 Pedemontana, a scontrarsi una Toyota e un camion. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Castellamonte, i carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea e delle stazioni di San Giorgio Canavese Strambino. Ferito il conducente della vettura che è stato affidato alle cure del personale sanitario, non pare in pericolo di vita, illeso l'autista del camion. La dinamica del sinistro è la valle dei carabinieri di San Giorgio Canavese. Lo svincolo è stato chiuso al traffico in entrambi i sensi per permettere l'operazione di soccorso e rimozione dei mezzi. a Zegna Castellamonte.